L'attrice Valeria Punturi è ritornata in questi giorni a Sciacca per un breve periodo di vacanza, ospite dell'Associazione Culturale Pietro Germi di Vincenzo Raso. Nel 1964 era stata una delle protagoniste del noto film di Pietro Germi Sedotta e Abbandonata, dove interpretava il ruolo di Annina Ascalone. Ai nostri microfoni il ricordo di quelle scene e di quegli anni. La città l'ho trovata molto cambiata, ingrandita, si è sviluppata moltissimo, però era meglio prima, quando eravamo tutti più uniti, perché adesso è molto dispersiva. Cosa ricorda in particolare al modo di quegli anni delle scene di Sedotta e Abbandonata? La scena del rapimento alla piazza San Michele, Poi quando mangiavamo il gelato la sera, che passeggiavamo giù sempre al corso, tante belle cose, perché ho passato bei momenti qui a Sciacca. Il mare è bellissimo, tutto ok. Cosa ricorda in particolare al modo di Pietro Germi? All'epoca com'è stato da lavorare con lui? Con Pietro Germi è stato benissimo, poi ho fatto anche Serafino con lui, con Celentano, quindi siamo stati in Abruzzo. Qui siamo stati in Sicilia, una persona molto cordiale, quando un po' andava su di giri era un po' dura la cosa, però era comprensibile di tutto con noi. C'è qualche retroscena del dietro le quinte, qualche ricordo particolare che ci vuole rivelare? C'era che lui era molto duro, se tu non facevi bene la scena ti faceva anche piangere, questo era, perché lui voleva proprio tutto preciso, come diceva lui. Il prodotto finale però è stato eccezionale. Sì, bellissimo, infatti tutti lo dicono, che se è stata abbandonata è sempre da rivedere, è da rivedere i luoghi di Sciacca che è molto bella, bello il mare, bella la gente, la gente molto cordiale, ospitale, tutto ok. Un ultimo commento, le chiedo un ricordo di Vincenzo Licata. Ah, Vincenzo Licata è un grandissimo poeta, come lo definiva Germi, che lui era un grandissimo poeta, quindi un bellissimo ricordo. Infatti quando sono venuta qui la prima volta che ho visto il figlio, dico, ma no, non è possibile che ancora lui è in vita, perché gli somiglia tantissimo. Poi delle belle poesie, anche la musica, bellissimo proprio Vincenzo Licata. Infatti la prima cosa che ho fatto è che sono andato a vedere la statua e mi sono fatta le foto, perché è bello, molto bello. Quando rivedo io il film, mi rivedo alla mia età di otto anni. Ogni tanto dico, ma quello ero io o no? Perché rivederti ora, adesso da grande, da maturo, ricordando una cosa. Come ha detto Valeria, era uno molto, diciamo, scupoloso Pietro Germi e se tu non facevi quello che diceva lui, ti cazziava materialmente. Io invece ho aggirato l'ostacolo, ho imbrigliato a Pietro Germi, in che senso? Perché durante le scene, tutte le cose che loro lasciavano lì, libere, io regolarmente, mi sembrava normale prendermi lì e portarmi a casa, come il Ciacchi, il libro di lavorazione di Mirta Guarnaschelli, il giornale Storyboard, dove c'è tutta la storia scritta da Pietro Germi. E alla fine io ho aspettato che lui mettesse la data e la firma per sottrare questo giornale. Beh, io ti posso dire una cosa, di Sedotto Abbandonato avevo dei ricordi bellissimi, strepitosi. Io mi ricordo quando con Vincenzo Licata andavamo con Pietro Germi nelle taverne, lui amava le taverne. Io mi ricordo, lui scendeva dal cavalletto che faceva le riprese e io salivo. E ora è il momento di ricordare a Iace Barolini un grande fotografo, era regista della fotografia, mi diceva, a vincere, a scendere del cavalletto, lo fai incazzare, scendere. E allora, sta storia che loro mi riprendevano, io dentro di me dico, ora ti frego una cosa, ti faccio vedere che ti frego una cosa, così ti faccio stare calma.